Allora, un pezzo di questa centrale, grazie. Che è stoghetto? A chi no? No, la mortadella. Ok, e mi dai un pezzo di... Senti, mi posso dare un altro pezzo di una mortadella centrale? Grazie. E... Stoghetto è progetto, rispetti. Vai, è giudicata. E uno yogurt se c'è ciliegia. Sì.